è un'occasione è questa che si deve sfruttare per andare a punti anche pietro zazzi a questo punto brutta caduta in fondo per aperto gli sci la gamba destra saltati entrambi gli sci non si muove in questo momento visto una bruttissima torsione della gamba a destra è sì sì ma ti ricero il cameraman che è andato non a riprendere ma subito ad assincerarsi delle condizioni bruttissima caduta sull'uso proprio sul traguardo a cusci e vi asci adesso lo sapete non verrà mostrata il replay finché non arrivano le prime informazioni o comunque per lo meno lui era seduto sui gomiti per cui cosciente perché è andato giù anche di faccia tirato completamente ma